Se stai cercando un appartamento da acquistare, vicino al centro, in una palazzina piccola, qui sono otto unità in tutto, in una zona dove è facile parcheggiare, come vedi questa è una strada chiusa e quindi si parcheggia tranquillamente, un appartamento con due camere da letto, sala, cucina, bagno, garage e cantina al piano terra, beh rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in via Gramsci, una traversa di Viale Marconi e qui si trova questo appartamento in una palazzina di sole 8 unità all'ultimo piano con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto e bagno, oltre a cantina e garage al piano terra. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!